Ulteriore passo avanti per le opere della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania con l'approvazione del progetto definitivo da catena nuova Dittaino e l'aggiornamento dei costi per il tratto da Dittaino alla stazione di Nuova Enna. A seguito del completamento dell'istruttoria approvativa effettuata da Rete Ferroviaria Italiana, il commissario straordinario di governo Filippo Palazzo ha firmato due ordinanze. La prima approva il progetto definitivo dell'8-5 da catena nuova Dittaino per un importo complessivo di circa 640 milioni di euro che si sviluppa su circa 22 chilometri di nuova linea. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Catena Nuova con una nuova viabilità di accesso e della stazione di Dittaino che manterrà il collegamento con la zona industriale. La seconda approva l'adeguamento delle tariffe 2022 dell'8-4B da Dittaino alla stazione di Nuova Enna, opera del valore complessivo di circa 675 milioni di euro, progetto approvato lo scorso dicembre dalla Rete Ferroviaria Italiana che si sta già preparando le istruttorie per l'avvio delle relative gare di affidamento. Grazie. Grazie. Grazie.